ciao ciao a tutti salve come piace a me a dire ultimamente anche su instagram come state allora scusatemi è innanzitutto la location ma è doverosa perché le motivazioni penso che magari andando avanti anche con il video le capirete ma anche dal titolo ovvero oggi vi voglio parlare di 5 più un bonus mattoni quindi libri lunghi per l'autunno chi mi conosce sa che io non amo particolarmente l'autunno è una stagione che io detesto però devo dirvi la verità autunno inverno per me sono questi sono i veri mesi che richiamano i libri mattone c'è ovvero quei libri lunghi molto lunghi che accompagnano le giornate uggiose autunnali ecco io a me libro lungo uguale vibes autunno mi dà questa cosa qua mettersi sul divano un plate e in mano un bel librone io penso che non c'è una combo migliore poi fatemi sapere qual è la vostra combo autunnale ovviamente nei commenti allora devo fare un po di disclaimer iniziale tanto i libri più o meno già l'avete visti sul mio canale ve ne parlerò in maniera veramente molto molto easy molto stringata però ho bisogno di di parlare insomma un attimino prima di parlare di dedicarci ai libri poi chi non vuole sentirmi laterare manda avanti il canale il video allora diciamo che il mio giochino quello che faccio nel quale ovviamente parlo alla fine mi dico scrivete la parolina nella frase che vi dico eccetera allora quello è stato fatto non so se si è capito ma penso di sì per fare in modo che i video vengano visti vengono visti dall'inizio alla fine perché questo aiuta aumenta le visualizzazioni e ovviamente il video viene visualizzato di più qualora io non non riesca a dire la parolina ho notato che comunque i commenti ci sono sempre quindi magari la parola a volte l'inserisco a volte no perché non vorrei che qualche furbetto sapendo questo giochino schippa tutto il video e va direttamente alla fine per spulciare la per vedere la parolina da inserire no non non mi piace questa cosa quindi altra cosa allora io dato è settembre molti canali hanno portato nel loro video hanno fatto un video dedicato ai cambiamenti ai buoni propositi eccetera quelli che apporteranno sul proprio canale allora io ho un'idea ho un progetto ovvero non voglio fare un canale prettamente di libri si chiamerà sempre l'estice tra le ombre questo non cambierà mai ma voglio portare anche dei video riflessione dei video riflessione sì perché voglio vorrei portare avanti quello che il mio terapista mi disse anni fa io ora non voglio entrare nello specifico ma i mesi successivi quelli che dovrò affrontare per quanto riguarda la mia salute saranno molto tosti molto pesanti a livello emotivo e già ne sto sentendo le le vibrazioni mi arrabbio facilmente non sto bene non sto bene sono ripresi attacchi di panico non sto bene per cui ho bisogno di condividere di parlarne perché forse aiuterebbe me ma anche qualcuno di voi chi lo sa quindi vi invito a nei commenti a scrivermi se siete favorevole o no io li faccio comunque ma giusto per darmi un'idea di quanti guarderanno il video quanti no e come mi dovrò comportare anche perché ho notato che ultimamente sono cresciuta grazie sono arrivata ai famosi 1800 iscritti e soprattutto la cosa che che quello che mi stupisce di più sono i commenti sono i commenti ai miei video vecchi vecchi di anni di cinque anni fa quattro anni fa sei anni fa dove ancora ero nel bagno della mia camera e all'interno del bagno della mia camera e parlavo di me e questo mi fa molto piacere non è che in sei anni io sia cioè sono guarita è passato tutto tutto rose e fiori è tutto meraviglia no come già vi ho detto all'inizio ci sono cose veramente belle pesanti per cui voglio il vostro aiuto fatemi sapere il vostro feed fatemi sapere nei commenti ah io non ho amiche quindi per me con alcune di voi giù io mai vi riconosco io conosco i nickname di chi mi commenta sempre di chi è tanto mi sostiene bene dovrete farlo ancora di più quindi condividere il video perché credetemi i prossimi mesi per me saranno belli tosti credo che già al prossimo video già vorrei un attimino parlare di alcune cose vorrei proprio parlare come ho detto prima dell'amicizia magari no dell'amicizia qua sui social dell'amicizia su youtube che si possono creare non creare e anche su instagram allora bene sei minuti quasi di intro perdonatemi e ovviamente guardate sempre la descrizione del canale il link i vari link del canale che link vi riporteranno direttamente su instagram qualora vogliate seguirmi anche lì che sono attivissima già ve l'ho detto se qualcuno di voi per sostenere il canale volesse regalarmi un libro grazie che qui le finanze anche di quello sarebbe sarebbe da da parlare anche di 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 moni di soldi perché qualcuna di voi nel mio video precedente dove ho detto fatemi dove ho chiesto di farmi delle domande mi è stato detto che lavoro fai di cosa ti occupi io vivo di pensione ragazzi 45 anni è una pensione di invalidità quindi chiudiamo bene il cerchio purtroppo non posso lavorare sono invadida al 100% quindi è questo insomma veniamo al video bene quindi almeno così scriverò nella descrizione per chi non vuole schippate al minuto 8 lo scriverò proprio all'inizio facciamo all'inizio del video già dirò schippate andare direttamente al minuto 8 e via parliamo dei libri come da titolo oggi vi parlo di 5 più un extra più un bonus dei mattoni libri che io adoro di più ma che ultimamente sto facendo fatica a trovare ne ho trovato l'ultimo mattone che ho letto è stato bellissimo mi dispiace ma lo vedrete spammato sempre quando ogni qualvolta ci saranno libri in cui si deve parlare nel quale si deve parlare di mattoni quello lo inserisco perché è troppo 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 bello mi è piaciuto troppo è stata un po' ardua i mattoni per l'autunno perché perché non volevo parlarvi sempre dei stessi libri anche titoli che si trovano comunque in giro ma spaziare un pochino parlare di libri nuovi di libri diversi e anche ogni genere diverso magari è 5 mattoni per tutti i gusti ecco così come come si dice allora io direi di partire da un libro che a me non ha colpito particolarmente però lo consiglio soprattutto a quella perché magari a me non è piaciuto ma a te potrebbe piacere se ti interessa di femminismo io sono donna ma non sono così femminista cioè non sono di quella categoria estremista femminista perché sono tante veramente molto ragazze molto agguerrite come se tu dici una cosa contro magari vai contro la loro opinione si arrabbiano mi è capitato su instagram e quando mai dico io non commenterò più niente perché veramente qui ti azzannano quindi se sei femminista quindi questo è per le donnine se sei femminista ma comunque è un libro che può essere letto anche dai maschietti perché si parla di donna a 365 gradi poiché la protagonista è una donna ma le combina di corte e di crude combina cose che a un uomo potrebbero fare anche piacere capitemi comunque sto parlando è il libro di don robertson miss margaret ripat e lo smantellamento dell'universo allora vi sembra chissà ecco qua questo è un bel mattone è un bel mattone perché supera le 500 pagine 540 pagine ecco è un bel mattoncione bello ma è edito nutrimenti costa 20 euro se non 22 22 euro io l'ho presi perché amo don robertson la scrittura di don robertson don robertson è uno dei miei scrittori preferiti americani un autore dimenticato troppo troppo presto che è venuto a mancare in non tardissima età però non era neanche anziano è stata sua moglie e complice anche steven king a rivalutarlo perché ci sono diversi libri di don robertson molto tosti uno in particolare ma non ve lo dico quale non vi dico quale perché quello riguarderà ovviamente nel caso altri altri video è un bel mattoncione la copertina è stupenda stupenda e si parla di donne miss margaret è la protagonista assoluta di questo romanzo e qui viene scandagliata tutta la sua vita quello che lei ha potuto fare nella sua vita è qualcosa di scandaloso cioè veramente ne ha fatto di tutti i colori una donna molto particolare una donna libertina una donna che cercava l'amore attenzione cercava l'amore ma non pregava di non trovarlo ecco il fidanzato ha preso in giro parecchi uomini nella sua vita ne ha fatte tante di cotte di crude anche a livello politico perché lei si è ribellata a tanti stereotipi allora è da leggere è da leggere non è un libro che si legge velocemente ve lo dico non è un libro scorrevolissimo ci sono dei punti un po più lenti ma ne vale assolutamente la pena non è il migliore di don robertson questo ve lo posso assicurare poi andiamo da Atlantide un libro completamente diverso un libro coccola un libro che vi farà sorridere ma anche un po' riflettere questo è di 430 pagine su per giù ed è Lorda Mott torna a casa ed edito ovviamente la mia casa editrice del cuore una delle mie case editrice del cuore che è Atlantide della collana blu questo si trova veramente anche usato ve lo dico si trova facilmente anche usato ed ha un prezzo di 20 euro allora spero tanto che voi riusciate a vedere mi piace tanto l'autunno l'autunno è difficilissimo fare video quindi perché perché si fa notte prima ed è un macello per noi creator è una cosa veramente io ho la luce ma non vedrete non vedreste bene quindi meglio che stiamo così l'importante è che non vedete me l'importante è che vedete le copertine e vedo che si vedono noto che si vedono e per dirlo io mezza cecata potete crederci Lorda Mott torna a casa lo dice il titolo stesso parla di Lorda Mott una donna dalla vita complicata una donna che è uscita da un matrimonio fallito torna a casa dalla sua famiglia che a quanto pare ha bisogno di lei dopo tanti anni della sua mancanza c'è sua nipote che ha bisogno di lei non vi dico le motivazioni che appunto che spingono la nipote e la figlia a richiamare la mamma quindi Lorda Mott una donna molto emblematica molto particolare ma della quale vi innamorerete perché lei farà del tutto per aiutare la sua famiglia nonostante tutto quello che è accaduto all'interno della sua famiglia veramente molto interessante ne ho già parlato sul canale ma non smetterò mai 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 di farlo di parlarvi mi dispiace vi sanguineranno le orecchie ma questo è tant'è c'è qualche personcina nuova qui sul canale quindi è giusto parlare di libri anche di cui vi ho straparlato anche abbastanza altra case editrice che io adoro con la quale quest'anno è iniziata una splendida collaborazione io ne sono onorata per me è una cosa meravigliosa quella che è accaduta è la prima e unica case editrice con la quale è iniziata appunto la collaborazione fissa e grazie sto parlando di NN edizioni e il libro è di Joyce Maynard mi dispiace ma questo è un libro che io considero sempre mi dispiace non me ne vogliate l'albero della nostra vita è uno dei libri più belli che ho letto tre anni fa ormai sono già passati tre anni e questo è stato il primo libro dell'autrice che mi ha fatto innamorare di lei da lì li ho voluti tutti qualcuno me ne è piaciuto di più qualcuno di meno ma veramente nel complesso un libro veramente spettacolare meraviglioso perché? perché si parla di famiglia si parla di vita reale mentre si legge questo libro sembra di leggere una storia vera una storia di una famiglia vera una storia di una donna realmente esistita che lotta con le unghie e con i denti per la sua felicità per la sua serenità egoista? no una donna che ne ha passate tante nella sua vita ha avuto dei lutti grandissimi uno è la perdita di un figlio prima prima fra tutto fra tutte aveva scoperto della malattia stessa della malattia del figlio stesso e poi una perdita così così forte la sua rinascita la sua crescita la sua voglia di ricominciare c'è tutto qua dentro c'è gioia non tantissima però ce n'è dolore rabbia risentimento tradimenti tradimenti la protagonista è stata tradita da suo marito motivo per il quale lo ha lasciato anni e anni prima poi ha cercato di ricostruirsi una vita ma è scritto in un modo meraviglioso meraviglioso i font della NN sono spettacolari parole distaccate non sono appiccicate tra di loro interlina molto larga e quindi sono anche se sono lunghi perché questo è un bel mattoncino si divora si divora ed è veramente facilmente leggibile non so se riuscite a percepire è comunque veramente consigliato leggetelo leggetela a prescindere partire da questo come sono partita io me ne mancano tre allora adesso vi nomino un libro che a me non è piaciuto libro del mio primo gruppo di lettura che ho fatto su Instagram su Telegram scusatemi non è piaciuto quasi a nessuna quindi un flop totale però però potrebbe piacere a qualcuna di voi perché è un thriller magari chi è avvezzo a leggere thriller chi forse perché io nella mia vita non letti veramente tanti questa non mi ha dato niente comunque sto parlando di Anna O per Anna Micheseo Anna Micheseo è una tra le mie case editrici proprio preferite preferitissime dopo NN e Atlantide peccato loro non non collaborino con con tutti non inviano libri così facilmente ma è giusto ci sta assolutamente la politica ognuno vive come vuole ma è anche discutibile che mandino libri ad alcuni profili che va bene andiamo avanti allora perché io c'è il catalogo di Anna Micheseo prenderei tutto cioè anche la lista della spesa edito Anna Micheseo io lo lo prenderei quindi cioè veramente la lista della spesa la prenderei comunque William Blake Anna O Anna O inizialmente doveva essere sulla carta il libro per me si parla di insonnia si parla di innanzitutto sono oltre 500 pagine queste non è che si bevono di più è scorrevolissimo io l'ho letto in tre giorni neanche sì perché è veramente molto molto scorrevole sono 503 pagine e anche questo è un costo abbastanza alto penso sulle 20 euro io l'ho preso con un buono mi sembra di sì 22 euro 22 euro quindi stavo dicendo si parla di insonnia cioè una ragazza praticamente ha fatto del male a dei suoi compagni di stanza di camera diciamo così di casa a dei suoi coinquilini a dei suoi amici mi sembra due ha fatto del male a queste due persone ma del male bene quindi del male bello forte non posso dire troppo perché youtube mi banna quindi capitemi al volo quindi e sotto l'effetto del sonnambulismo così no? ok sembrerebbe ed entra in coma fa questa quest'atto così terribile ed entra in coma da lì poi c'è uno psicologo che deve cercare di svegliarla per capire la dinamica per capire il movente cioè cosa è accaduto quindi interverrà appunto uno psicologo adatto che uno psicologo proprio che si occupa di questi casi casi di insonnia e questi tipi di casi appunto specifici Anna O è la ragazza appunto accusata O è il cognome allora è stata a me ha fatto una rabbia questo libro pazzesco perché non sopportavo nessuno cioè questo è il primo caso in cui io non sopportavo non ho sopportato neanche uno dei personaggi di questo libro è un romanzo corale ci sono tanti personaggi perché fanno parte anche i genitori di Anna intervengono perché ecco ovviamente la figlia ecco lo stesso lo stesso psicologo io l'ho detestato dalla prima volta che si è incontrato che si incontra le prime pagine nelle prime pagine poi lo troviamo subito lo psicologo da lì gliel'ho sempre detestato non mi è piaciuto ma attenzione ci sono dei colpi di scena sì quindi se siete interessati a un thriller comunque scorrevole un libro veramente di intrattenimento molto scorrevole questo fa per voi non lo posso negare ragazzi miei vediamo un libro che è il quinto libro poi vi dirò l'extra che non si vede per niente in giro è un libro tosto tratta diverse tematiche una in particolare è la disabilità perché i membri di i personaggi di questo libro sono tutti disabili e fanno parte di una di una di una stretta cerchia diciamo e vivono tutti quanti insieme in una grande casa in una grande struttura il libro in questione è questo la casa del tempo sospeso da di salani questo ragazzi è un bel mattoncione super addirittura le 600 pagine questo l'ho letto ci l'ho letto cinque anni fa mi sembra sì 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 esatto sono 600 800 pagine allora non vedo bene perché qui sta calando la notte mi sembra 800 sì sì sono 860 pagine ve lo dico l'ho letto nei miei tempi migliori quando ancora la mia vista poteva andare l'ho letto con ingranditore ma perché il fonte è piccolo è meglio piccolo ma ragazzi vi appassionerete tanto a questa storia come vi ho detto si narra si narrano le storie è un romanzo coralissimo perché ci sono tanti tanti personaggi anche lo ricordo benissimo e avevo messo dei post-it e mi era veramente piaciuto tanto ve l'ho detto di cosa si parla si parla di ragazzi rinchiusi disabili rinchiusi in una struttura innanzitutto l'autrice è russa credo che sia Miriam Petrojnia penso che sia russa l'autrice tra l'altro devo trovare se ha scritto qualcos'altro perché ho adorato tantissimo è una struttura un po' complessa del romanzo vi dico ci sono scusatemi mi sto confondendo mi ne rendo conto tanti ragazzi che hanno tutti una disabilità diversa chi è non vedente chi ha ritardo mentale chi ha problemi a camminare chi è dislessico ci sono tante è una scuola tante problematiche qui ci troviamo all'interno di una scuola in cui allora questi ragazzi vengono portati non sono la maggior parte di loro non sono ragazzi abbandonati però vengono lasciati solo a se stessi lì è compito poi del professore del preside occuparsi della mente poi anche di questi ragazzi voi vi appassionerete alla storia alle storie di ognuno di questi ragazzi c'è tanta empatia io non so come come devi di leggerlo io questo libro l'avevo visto in un canale di una ragazza che mi sa non fa più video lo devo ritrovare assolutamente se lo trovo ve lo metto in descrizione ne aveva parlato lei benissimo me ne ha fatto innamorare quindi questo libro lo devo avere è un po' vecchiotto la mia edizione infatti è vecchiotta però è della Salani il prezzo è di 20 euro ma è appunto è di 860 pagine ma lo amerete io come me se siete sensibili a determinati argomenti lo amerete fazzoletto in mano perché veramente è è bello bello tosto l'extra ovviamente non potevano inserirvelo un libro che ho letto quest'anno è uno tra i più belli di quest'anno e di Andrea di 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 anche qui ci troviamo davanti a una nave di teseo ovviamente ecco come già vi ho detto è così fonte meglio grande interina larga 20 euro ma questi sono 20 euro spese benissimo 20 o 19 no perso 20 22 addirittura ma ragazzi questi sono 22 euro spese benissimo sono contenta perché dall'ultimo video qualcuna di voi mi ha scritto sia qui sotto che sia nei commenti che su instagram dicendomi che l'hanno preso dopo aver sentito la mia opinione quindi grazie davvero e sono contentissima mi fa veramente tanto piacere e spero che lo amerete come l'ho amato io come non si può come non si può non non appassionarsi a questa storia due personaggi che difficilmente si dimenticheranno perché entrambi hanno un vissuto particolare io ve lo dico il finale a me ha lasciato spiazzata perché non me l'aspettavo potesse finire così io volevo questa volta la prima volta in tanti anni volevo che finisse completamente diverso nel modo diverso nonostante il finale già viene svelato all'inizio praticamente già le prime pagine perché il protagonista ci racconta di lui della sua vita in punto di morte però in punto di morte racconta la sua vita tutta la sua vita da quando è nato in poi e lui incontrerà la cosa che mi è piaciuta tanto è che non si svela subito all'inizio noi non capiamo subito quello che questo ragazzo porta in sé soffre di nanismo e a pagina 20 o 30 mi sembra quindi non subito ci viene detto ma più avanti lui suo padre è scultore e lui vuole fare lo stesso suo padre che morirà in guerra gli insegnerà già i trucchi del mestiere e lui il suo grande sogno è quello di diventare un grande scultore basta da qui poi ovviamente ovviamente lui lavorerà nei tanti lavori che farà lavorerà per una casa di una ragazza molto ricca di una famiglia ricca e lui si innamorerà della figlia di questa famiglia lui ceto basso lei nonostante loro abbiano la stessa età lei ricca quindi borghese entrambi proveranno un sentimento molto forte l'uno per l'altro ma entrambi già sapranno che non potranno mai stare insieme basta cioè bellissimo è da leggere la scrittura è meravigliosa io voglio leggere altro di quest'autore perché mi ha troppo colpita e quindi voglio assolutamente leggere leggere altro veramente bello dato 5 stelle non c'è stata una cosa fuori posto non mi ha mai ovviamente mai annoiata anzi è scorevolissimo e io lo trovo adattissimo per questo periodo perché nel suo interno c'è un momento dell'anno in cui è natale quindi anche tra natale e capodanno questo è veramente leggibilissimo è adattissimo per il periodo concludo benissimo io spero di avervi tenuto compagnia grazie a voi per la compagnia e fatemi sapere i vostri mattoni se leggete libri lunghi se invece preferite quelli brevi e datemi dei titoli vediamo i vostri titoli autunnali mattoni niente scusatemi ancora per l'intro per l'intro lunghissima però ci tenevo appunto a a sfogarmi un attimo a fare una riflessione e a parlarvi almeno non dico due minuti perché ho parlato per sei minuti va bene quindi per qualche minuto dai per qualche minuto mi sono un pochino mi sono sfogata ecco va bene un bacio grande alla prossima scusatemi anche le luci ma tanto sono importanti importanti sono i libri ciao grazie a tutti